No ai lidi sulle spiagge con duna, sono contro legge, compromettono la fascia dunale e la sua vegetazione. Il responsabile provinciale della Lipu, Gennaro Manzo, si schiera contro le autorizzazioni rilasciate dal comune di Vibonati per l'installazione di tre strutture balneari su tratti di litorale di Villa Mare, caratterizzati dalla presenza di dune. Il caso è stato denunciato alla procura della Repubblica di Lago Negro e segnalato con una lettera al ministro all'ambiente Sergio Costa e al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Gli ecosistemi dunali, ricorda Manzo, sono protetti da leggi nazionali e europee e convenzioni internazionali per il loro valore di biodiversità e paesaggistico. Una delle aree da attrezzare per la balneazione è in località Oliveto, Cippo Pisacane e ricade proprio davanti all'area dunale dove il corriere piccolo nidifica dalla 2018. Secondo Manzo i lavori per l'attivazione di un lido, dalla realizzazione di percorsi per diversamente abili agli interventi per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, andrebbero a compromettere la fascia dunale e a disturbare in modo grave e irrimediabile la nidificazione dell'uccello costiero migratore. Da due anni nidifica i margini della duna con deposizione eccezionale di uova. La Lipo ha chiesto alla giustizia di indagare sui tre permessi rilasciati per altrettanti lidi, sperando che nel frattempo il sindaco Brusco decida di revocare le autorizzazioni nell'interesse delle belle spiagge e del corriere piccolo. Dal comune fanno sapere che non c'è nessuna irregolarità nel rilascio delle autorizzazioni e che l'habitat naturale sarà tutelato.